La Juve assomiglia alla UEFA, tempi e sensazioni nel verdetto, te possibile ricorso. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Non c'è solo il mercato per tenere sotto controllo la Juventus di casa, il resto sembra strategico e cruciale per capire se la prossima stagione, e la prossima, ti bianconeri parteciperanno alle coppe europee, in particolare nella Conference League 2023-24 o se dovranno affrontare un anno di squalifica da parte della UEFA. Ma non siamo nel bel mezzo, pensando alla decisione della UEFA e dovremo aspettare fino a metà luglio per ottenere il primo grado di Nyon, è quello che dice l'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, specificando poi che un eventuale ricorso deve essere indirizzato direttamente a TAS per avere una risposta all'inizio di agosto. Lo scenario di Curi Sopra chiarisce quanto sia prematuro oggi definire in dettaglio cosa può accadere o fare previsioni precise sul destino dei bianconeri in Europa. La multa di 23 milioni contro la Juve, ridotta a 3 milioni in base all'accordo, non ha visto ulteriori restrizioni sulla composizione del cast e sul mercato, ma, allo stato attuale, la situazione può cambiare se i white trials fossero considerati particolarmente gravi. Per evitare ulteriori restrizioni come quelle descritte, il giornale spiega, il club potrebbe anche accettare, senza ricorrere al TAS un'esclusione dalla Coppa di una sola stagione. Il discorso cambierebbe radicalmente con una squalifica più lunga che, a quel tempo, avrebbe portato i bianconeri a continuare la battaglia legale, per paura di dover rinunciare, nel 2024-25, a coppe più importanti ereditizie. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla. Iscriviti al canale文PR Iscriviti al canale Iscriviti al canale Grazie a tutti.